Dopo 45 giorni di preparazione con Trentino Volley, Simone Parodi saluta per lui un'opportunità che si sta definendo in Polonia, quindi giusta l'occasione per Coglioli e giusta l'occasione anche per vedere il tuo grado di preparazione. Come è andata, Simone? Sì, guarda settimana scorsa mi è giunta questa voce, sono molto molto contento perché andare a provare un campionato straniero poi polacco è molto bello e sono stato veramente molto bene questi 45 giorni, come hai detto tu, devo solo che ringraziare la società di Trento, tutti voi, dal presidente, al direttore sportivo, a Angelo al fisioterapista, al preparatore, a tutti, mi hanno messo in una condizione diciamo buona e penso che nelle partite l'ho potuto dimostrare e quindi spero di cogliere questa occasione. Anche Trentino Volley deve dire però grazie a te perché sicuramente hai innalzato il livello di allenamento in un periodo che solitamente è contraddistinto da pochi giocatori, quindi più giocatori di qualità ci sono e meglio è, che periodo è stato anche dal punto di vista del lavoro? Ma no, guarda innanzitutto dobbiamo ringraziarci a vicenda, sono io che ringrazio voi e poi dal punto di vista del lavoro è stata la classica preparazione penso che abbiamo fatto un grande lavoro fisico con Guazzalocca e poi abbiamo fatto un bel lavoro tecnico con Angelo e pur avendo 33 anni penso di essere migliorato sotto alcuni punti di vista perché Angelo è un grande allenatore quindi spero di continuare così e di poter sfruttare questa occasione. Sei stato, lasciamelo dire, un avversario storico di Trentino Volley, ripenso ai V-Day, ripenso ad altre circostanze che effetto ti ha fatto per una volta essere da questa parte? No, guarda subito mi ha fatto una sensazione un po' strana perché comunque entrava al palazzetto sempre l'avversario quindi ovviamente allenarsi con la maglia del Trentino è stato un po' strano ma diciamo che dopo due o tre giorni sia la sterilità della società che i ragazzi mi hanno dato una grossa mano e poi sono stato a mio agio. Che Trentino Volley vedrai in questo campionato anche se magari ti sei allenato con pochi effettivi che impressione hai di questa squadra? Sì, guarda ci siamo allenati, eravamo ovviamente molto pochi, devono ancora arrivare tutti ma penso che il roster sia di grandissimo livello, sia una squadra ottima e quindi penso che davvero possiate fare un gran campionato. Nel frattempo seguiremo magari a distanza Simone Parodi che è bene dirlo e l'hanno confermato le amiche o le recenti, c'è in splendida forma. Ma sì, io sto bene, guarda io sono due anni che sto bene, il ginocchio tiene e l'anno scorso sono stato ancora sfortunato un'altra volta e spero che quest'anno vada un po' tutto più liscio. In bocca al lupo e a presto. Crepi, grazie, in bocca al lupo anche a voi. Grazie.